io sono tuo padre ciao amici naturalmente si scherza ma benvenuti su byte retro one canale di retrocomputing per passione e un pizzico di nostalgia dove si parla di home computer e micro computer degli anni 70 e 80 nelle scorse puntate ci siamo occupati di disk drive prodotti dalla commodore per il commodore 64 vic 20 c128 sr264 se non li avete già visti vi lascio i link in descrizione ma oggi parliamo dei cloni cioè dei disk drive prodotti da terze parti ma compatibili con il commodore 64 e gli altri home computer a 8 bit della commodore l'elenco non sarà esaustivo naturalmente ma ci soffermeremo sui modelli più diffusi in europa e specialmente in italia ma come dico sempre bando alle ciance mettetevi comodi cliccate sul pollicione in alto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti e ci vediamo subito dopo la sigla negli anni 80 la commodore era leader indiscussa nelle vendite di home computer e la domanda sempre crescente di disk drive incoraggiò altre aziende a produrre dei modelli compatibili e alternativi e quelli prodotti da commodore spesso avevano dei prezzi concorrenziali in alcuni casi avevano caratteristiche e prestazioni addirittura superiori a quelli prodotti dalla commodore tra i modelli più diffusi in italia di disk drive compatibili con quelle della commodore c'erano quelle della serie rf 500 c tra questi c'era il modello rf 501 c molto simile a quello prodotto da blue chip per il mercato americano la rf 501 c si propone come alternativo al 15 41 c della commodore dal lato posteriore vediamo le due porte seriali e il connettore a sezioni rettangolari il selettore per numero di unità e l'interruttore per l'accensione un altro modello della serie rf era il 512 c che si proponeva come alternativa al 15 71 della commodore come vediamo esteriormente c'è la scocca è la stessa usata per il modello rf 501 c hanno una buona meccanica ma spesso soffrono di disallineamento della testina qui possiamo notare anche il cartoncino che serviva a proteggere la testina di lettura e di scrittura durante il trasporto qui vediamo a confronto il modello rf 501 c con il modello rf 512 c come vediamo le scocche sono le stesse nel manuale d'uso andiamo a leggere quanto dichiarato cioè che rf 501 c è compatibile con il 15 41 c della commodore mentre rf 512 è compatibile con il 15 71 qui vediamo il trasformatore con il connettore a sezione rettangolare le due tensioni in uscita sono 16 volt in alternata 0 8 ampere e 9 volt in alternata a 1,5 ampere un altro modello molto diffuso in italia era l'oceanic ossi 118 n compatibile con il 15 41 2 della commodore questo modello era molto apprezzato per le sue caratteristiche meccaniche si presenta molto compatto e resistente con la sua scocca in metallo nel lato posteriore troviamo il connettore per l'alimentatore i due ingressi seriali e il tasso di accensione e spegnimento la scocca in metallo ricorda molto quelli di drive dell'apple 2 anche se è molto più compatto qui possiamo vedere l'alimentatore con il connettore di alimentazione a sezione circolare con quattro pin e le uscite in corrente continua sono più 5 volt e più 12 volt se mettiamo a confronto il modello rf con il modello oceanic vediamo come quest'ultimo sia molto più compatto molto più sottile e possiamo notare la parte superiore della scocca in metallo per il modello oceanic oc 118 con queste caratteristiche prese d'aria anche sovrapponendo ci rendiamo conto di quando sia più piccolo il modello oceanic oc 118 sul modello se anche non abbiamo il selettore per settare il numero del drive lo particolare è il modello tb plc td 01 della cumana drive alternativo al 1581 della commodore cioè per la lettura e la scrittura di dischetti da tre pollici e mezzo il drive veniva venduto con corredo sette giochi su dischetto e delle dei programmi dei software utility apriamo la confezione per scoprirne il contenuto all'interno troviamo la brochure pubblicitaria e il manuale con le istruzioni d'uso sia del software che dei giochi contenuti nel dischetto da tre pollici e mezzo infine troviamo il lettore disk drive per dischetti da tre pollici e mezzo con il particolare connettore che va inserito nella porta di espansione del comodo 64 ovvero la porta delle cartucce venne prodotto nei primi anni 90 cioè al finire dell'epoca del comodo 64 ed ebbe quindi una scarsa diffusione venne prodotto principalmente per il mercato inglese e tedesco esteticamente questo lettore è molto simile ad un altro prodotto da dalla stessa cumana per i computer amiga stiamo parlando del modello di disk drive esterno per amiga c a x 354 il meccanismo di esposizione di dischetto è naturalmente quello classico dei lettori da tre pollici e mezzo un dispositivo molto particolare è il quick data drive che si pone a metà tra un lettore a cassette e un lettore disk drive infatti come supporto utilizza queste particolari cartucce a nastro magnetico simile alle cassette audio ma di dimensioni molto più ridotte e di capacità superiori nel manuale d'uso possiamo vedere come collegare il quick data drive al vik 20 tramite una cartuccia di espansione della memoria oppure collegarlo al comodo 64 e in questo caso non abbiamo bisogno di nessuna cartuccia di espansione possiamo addirittura collegarne due dispositivi in serie oppure collegare un data drive e in serie con un data azione qui vediamo il connettore che va inserito nella porta cassette del comodo 64 del vik 20 il dispositivo possiede un proprio sistema operativo che veniva caricato e tramite la cartuccia magnetica e la confezione poi veniva fornita un ulteriore cassetta magnetica per registrare i propri dati che dimensioni di questa periferica sono molto contenute e anche qui troviamo una scocca molto resistente in metallo qui possiamo apprezzarne le dimensioni molto ridotte sia rispetto al disk drive in questo caso un oceanic e sia rispetto a un data set della comodo molti software diagnostici per il per i disk drive della comodo possono essere utilizzati anche per i disk drive compatibili in questo caso andiamo a provare un oceanic così 118 n con un programma diagnostico per i 15 41 andiamo a provare il test performance è possibile comunque utilizzare altri test per l'allineamento della testina oppure per regolare il numero di giri al minuto del motore passo passo in rete sono disponibili molti tutorial su come utilizzare questi diagnostici per risolvere alcuni dei problemi di lettura e di scrittura di questi driver per esempio dovuti al disallineamento della testina di lettura e di scrittura in questo caso il test si è concluso positivamente con lettura e scrittura corretta dei dati sul dischetto bene amici siamo giunti a termine anche di questo video spero che vi sia piaciuto e in tal caso vi invito a lasciare un like e se non volete perdere i prossimi contenuti vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella io vi auguro una serena pasqua insieme ai vostri cari e vi vi aspetto numerosi ai prossimi video ciao